Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Brawl Stars L'aggiornamento è uscito ragazzi proprio ieri per voi che state guardando questo video E anzi oggi ci sarà anche disponibile il nuovo Brawler BB Che per me è ancora da sbloccare perché ovviamente sto registrando il video il giorno prima Però vi comincio a dire fin da subito che domani alle 4 ragazzi qua sul canale non potete mancare Perché ci sarà il Super Box Opening di BB Andremo ad aprire 68 casse che sicuramente saranno di più perché ne farmeremo ancora adesso e nella live di questa sera Che per voi è stata ieri ma vabbè casini 5 e Big Box che probabilmente saranno comunque 5 perché non so se riesco ad arrivare a fare il sesto Ma ragazzi andremo a pigliarci anche il i5 Mega Box di questa offerta bomba Così ci mettiamo da parte anche un bel po' di gemme Non avremo sicuramente problemi per pigliarci le skin E basta perché ragazzi c'è sta roba qua veramente in decente Guardate 22 euro ragazzi mi rovino Però insomma noi vogliamo partire in quinta dobbiamo partire in quinta Nei video di oggi siamo in compagnia del buon Niccone Ciao Niccone come stai tutto bene? Non ci sei mai nei miei video come mai sta cosa che oggi Oggi Nicc andremo a giocare insieme con un duo d'eccezione Dynamike e Rosa che abbiamo già testato nella live di ieri no dell'altro ieri E ragazzi vi devo dire che in sta mappa ci può ancora stare come team Il fatto è che Rosa è parecchio alta la dobbiamo portare al 500 Queste qua sono delle coppe decisive ce ne mancano 31 ragazzi sono veramente poche E quindi ci tocca ci tocca provare ragazzi perché vi ricordo che Rosa è stata nerfata Come potete vedere qua segna 3 secondi di durata e 70% di resistenza Non 80% come avevo detto l'altro giorno Ragazzi direi che possiamo partire a bombazza Iniziamo a farci la prima duo Concentrazione a livelli massimi ragazzi Si dice massimi ragazzi Massimi Nick Nick A livelli massimi dobbiamo giocare mi raccomando Io gioco sempre a livelli massimi Calcola che se perdiamo questa frase e la sconfitta rimarranno collegate Dicevi? Eh Vediamo un pochettino come è quello spawn Vedo un bel po' di cassette in alto Ne avevamo due lì quindi Spigliamo questi due e prendiamo su ok? E mi vado giù Vai giù allora vai direttamente giù Anzi ti darei un altro consiglio su dove andare ma Quello magari lo diciamo Lo diciamo poi dopo off camera va Così almeno non mi tirano giù il video Allora occhio quel crow Che è maxato Non puoi pushare un crow? Non posso pushare un crow? No non puoi Io posso fare quello che voglio Vieni giù voglio Ok aspetta aspetta vengo giù Ma in campo aperto no In effetti non è che avevo tante possibilità di pushare un crow Allora Lì c'è Jean Questi due qua sono fermi praticamente Buttaci un po' di dinamiti va Così se ne stanno un po' più calmi Che mi sembrano un po' troppo agitati già Ok qua Jean lo teniamo così Che tengo l'angolitos Occhio occhio crow Angolitos Angolitos Mi grabba se sei fermo Mi grabba dici Anche se sono una rosa fortissima baffata Soprattutto baffata Allora Al centro c'è qualcosa Ecco c'è lì Un invisibile No 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 Bella Bravo Una ultima No niente Come non ho detto Occhio quel crow Occhio quel crow Siamo Quattro team Ancora Eh però non siamo messi bene Perché c'è la gente con Già dei power up Ecco diciamo così Ah ok siamo in tre Rischio drop scongiurato L'ideale qua sarebbe farsi Vedere un team morire Magari stiamo ce ne giù Va che si pusha una vicenda Il primo che va giù Poi proviamo a darci noi Vediamo cosa riusciamo a fare Pronto a pushare? Pronto Vai vieni Aspetta 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 che è morto ancora Due membri di due team diversi Vai 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 Se le stanno anche dando Abbastanza Guarda qua Mi dicevi che non potevo pushare un crow Infatti avevi ragione Bene Vai via Ho la ulti comunque il compenso Ti potrebbe grabare Occhio ti grabba Ti grabba sicuro Ragazzi non avevo visto Che c'era la ulti Brello Guarda se resisti Brello sì Se resisti Ho la ultina Ulti 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 Bello 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 vai vai Stendilo Riempilo di pizze Dai è bella lì Bravo Nick E abbiamo giusto recuperato Il drop di prima Buono Ok Allora Vediamo un po' Qua c'è una cassetta Subito qua sotto Che Problema a pigliare E E qui Oddio Lo spawn è proprio Proprio quello che è Insomma Io tengo la posizione Un attimo A prendere quelle sotto Dici Quelle sotto è un po' tardi Tanto Eh ne abbiamo due Non è molto Non è molto Ma è un lavoro onnesto Ricordatelo sempre Deve cercare di fare Il primo posto Secondo me la ciccia Deve proprio puntare in alto Allora Non saprei neanch'io Tra le qua Movimenti non ne vedo Aspettiamo un attimo Eccola lì Penny Penny maledetta No non andiamo bene C'è Jin che Tira bene Sta mappa Jin tira proprio bene Potremmo provare Anche a fare Jin rosa Perché tu Li grabbi Automaticamente Essere un brawler fisico Diventa vantaggioso Occhio Hai la ulti Che ti può parare Veramente Il sederotto Ma butto C'è due dinamiti Un po' c'è Spurio Alla sinistra No Non andrebbero Riaccusciare Mercoledì Eh ti lascio lì ciccio Ti lascio lì Era meglio Se il grabbavano me Ma davvero Provare a fare Jin Jin rosa Dici che è una cosa Assurda Vai vai Distruggila Distruggetela Occhio Buono Ok non è male Non è male Non è male Facciamoci con la Shelly Bravissima Eh lì Te la giochi proprio tu Lì te la giochi proprio tu Vai 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 bello vai bello Eh no no non facciamo più niente Oddio Vai Madora Nick Madonna Nick Come commenti Ha dei commenti Non c'è da commentare Cioè ormai mi conoscete Allora Magari abbiamo trovato la soluzione proprio Perché poi dipende anche tanto da con chi si gioca ragazzi Perché tipo L'altro giorno eravamo con Fedeko Fedeko forse è un pochettino più bravino con Dynamite che con Gine Quindi Era giusto usare Dynamite Però in questo caso Qua c'aveva anche uno Spawn come si deve Vieni qua calderà Sì 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 quando vuoi Aspetta lì non sono sicuro che ci sia qualcuno Provo No Il meglio tenerselo Prova E infatti Ah no Infatti c'era qualcuno Prova Aspetta Aspetta Bravo Bene Benissimo Sì Gine È una macchina d'assedio Occhio quella rosa Bravo Ella lì Usiamoli per farmare di power up Stimo Ok Bella lì E se è fisico così riesco busciarmelo anch'io Occhio Occhio a Pamela Bella 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 Onali Pronto col grab Al cubrovita poi vai pure No ma perché E beh però non è che devi andare sul pensavo Devi essere sicuro che c'è il brawler prima di andarci Occhio c'è la jump con ora Croo di là Attenzione qua sotto c'è un bull con un dina Ci sono ancora un bel po' di team tutto sommato Però non abbiamo un vantaggio Oltre che di posizione abbiamo anche Un bel vantagginos Bella lì Tutti e due me li faccio Bene 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 Aspetta a grabare Hai subito capito Tanto tu dici Chilo dito lo stesso No Madò Che rischione Bella 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 Sì Gene worka un attimino meglio Gene worka giusto un attimino meglio Signor mio Bene ragazzi Dere che per questo video siamo giunto al termine Questa rosa è seriamente a rischio 500 coppe Probabilmente chi ha visto la live di ieri Saprà come è finita Con questo Con questo brawler Ragazzi ci si becca Con un prossimo video Appunto con una prossima live Vi ricordo di seguirmi anche su instagram Il link è sempre qua sotto in descrizione Fate un salto Perché ci sono anche tanti altri link Che non cito sempre Ma sono altrettanto importanti Ragazzi Un Esatto Tipo il tuo Un saluto Un saluto Me lo dimenticherò Un saluto No ok Devo ricordarmelo Un saluto a tutti ragazzi Alla prossima Ciao Ciao